Non tutti gli eroi portano la divisa, ma io sì, è del rosa. Come tutte le divise supereroi, mi è stata cucita su misura. Il mio nome è The King of Mortadella. Tutti hanno una missione alla vita. La mia è quella di giocare il mondo con la mortadella ed incantare tutti coloro che incontro sul mio cammino. L'originalità, la passione e l'amore per il mio lavoro sono ciò che mi contraddistingue da sempre. Per me il lavoro è tutto ciò che mi rappresenta, mi fa stare bene e mi tiene vivo.